Come ho detto, speriamo di rivedere tutti voi presto in Italia. Nel frattempo, quello che abbiamo voluto fare è creare un programma di formazione su misura per poter supportare i nostri partner nel mondo e essere ancora sempre vicini ai nostri clienti. Ovviamente ci mancate fisicamente, però per ora dobbiamo fare questo tipo di lavoro. No, a niente non resta come lavorare in un tipo di strumento. Con Margherita, Alessandra e Davide abbiamo preparato un programma su misura per voi che ci permetterà in questi appuntamenti di rivedere determinati e ci saranno anche delle novità di prodotto, di linee lanciate quest'anno. Davide, siamo a prossima discussione, quindi sentitevi liberi di con Davide e potete chiedere qualsiasi informazione o qualsiasi chiarimento. Io e Davide saranno qui con voi, quindi non stessate di domenica, ci siamo qui e siamo qui. Quindi, se qualcosa è necessario, spiegate. Chiediamo, non è facile fare l'educazione tramite webinar. Quindi anche da parte vostra interventi, domande, per avere l'idea che i messaggi vengono trasmessi, proprio perché manca la presenza fisica. Quindi, Davide conferme, se ogni tanto danno segnali di, come dire, che comprendono quello che viene detto. Danno segni di vita, mettiamola così. Quindi, diciamo, diciamo, spiegate i signori della vita, che tutto è bene. Perché anche la gente deve chiudere i microfoni mentre Davide parla, tranne i connessi, ovviamente. Chiudere i microfoni, sì. Perché altrimenti dei numeri può disturbare la connessione. Ovviamente poi li possono riaprire quando hanno delle domande da fare. E poi, quando ci saranno domande, vi chiedete tranquillamente. Iniziate i microfoni e iniziate. Da parte mia, buon lavoro. Davide... Noi, colleghi. Buon lavoro. Ok. Aggiungo solo quello che ha già detto Silvia, che se lo desiderano possono ovviamente accendere anche le loro videocamere e webcam. Ci fa piacere anche vederli proprio in viso. Se hanno piacere, chiaramente. Quindi, se volete, potete accendere le vostre webcamere, per vedere le vostre scegliate e radoste. Ci siamo molto abbastanza e noi vogliamo. Eccoci. Perché siamo... Alessio, siamo tutti belli. Quindi vi vediamo. E' bello. E' bello vedersi. E' bello, sì. Sì, visto che siamo lontani. E' bello, sì, visto che siamo lontani. E' bello, sì, visto che siamo lontani. Buon lavoro. Grazie mille, buon lavoro. Buon lavoro. Grazie. Grazie. Allora, adesso io... Buongiorno a tutti intanto. Davide, un secondo solo. Sì, prego. Sicché la linea internet non è granché sia in Italia che qua. Se per caso sparisce mezza frase, io alzo la mano e ripeti per favore. Ok, va bene. Perché è brutto far finta che io ho sentito e che invento qualcosa. Benissimo, benissimo. Ok. Tu alza la mano e io ripeto. Perfetto. Ok. Quindi, adesso condividerò il mio schermo con voi. Quindi voi vedrete... Vedete... Vedete, девочки, io adesso condivido l'ecran con voi. Quindi vedete dei video, una presentazione, quello che, insomma, saranno i materiali di oggi. Allora, alcuni di voi conosco bene, ci siamo visti più volte. Quindi magari sentiranno alcune cose che hanno già sentito. Quindi, probabilmente, voi potete sentire tutto ciò che già ho sentito. Invece molti di voi probabilmente li incontro tramite questo, diciamo, Zoom per la prima volta. Perciò, permettetemi di fare, prima di entrare nel merito di ogni argomentazione, Perciò, prima di entrare nel termine di oggi, dare delle informazioni di base. In modo che siamo tutti allineati e capiamo meglio, poi, quello che saranno gli esempi. Perciò, 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 perciò. Ok. Ok. Perfetto. Allora, adesso ci diamo lo schermo. Ok, adesso state vedendo il mio schermo. Allora, voi vedete, conoscete questa cartella colori, giusto? L'avete vista? Allora. Allora. Questa cartella colori, suddivisa in nove pannelli. Questa cartella è una cartella. Questa cartella è una cartella di 9 strane. in alta qualità. In alta qualità e quindi ti togli anche i partecipanti. Ah, sì. Ho fatto bene. Quella mettila magari solo quando devi far vedere dei video. Se vuoi vedere i partecipanti. Ok. Scusate. Ok, grazie. Allora la tolgo. Niente. Non vedo nessuno. Ok? Adesso dovresti vederli. Perfetto. Perfetto. Grazie. Ok, scusate. Quindi, stavamo dicendo, perciò... Perfetto. Questa cartella colori è la guida, sostanzialmente, a tutte le aree del colore. È un po' il nostro manuale. Ovviamente nella parte dove ci sono tutte le ciocche è per visualizzare i colori, ovviamente. C'è la parte posteriore della cartella che invece è molto importante perché contiene tutte le informazioni che riguardano la colorazione è il metodo di colore Absolute. Ok. Adesso vedremo alcune schede, alcuni pannelli. Adesso vedremo alcune stranze, alcune scheme. Solo per appunto allinearci al concetto di fondo, come si diceva prima. Perfetto. 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 Allora, adesso... Solo metto la versione più grande. Allora, questa sostanzialmente... Molto semplicemente partiamo da un punto di lettura del colore, per chi magari conoscesse meno Professional by Fama. Come si leggono le tonalità, sostanzialmente, i numeri. Alcuni di questi numeri sono uguali a tutte le altre aziende. In alcuni di questi ci sono delle piccole differenze che riguardano la Professional by Fama. Ok, partiamo dal numero uno, che è quello che vedete qua. Come di solito questo numero rappresenta i colori cenere, i colori freddi. Come vedete, il nostro uno è posizionato tra il verde e il blu. Questo perché? Perché a volte, in alcune aziende, invece, l'uno rappresenta solo il blu. Perché? Perché in alcune compagnie produttive l'unica è solo il blu. Invece, in questo caso, noi abbiamo un uno che rappresenta un blu-verde. Il blu puro per noi è il numero 9. Quello è blu per noi. Quindi abbiamo l'otto, che è un colore perla, che vuol dire che straffa il blu e il viola. È un colore molto importante, un tipo di riflesso molto importante. Perché è un cenere molto delicato. Quindi vedremo, molte nuanze contengono questo numero in combinazione con altri numeri. poi, ovviamente, il numero 2 è viola. Questo come in altre aziende. Il numero 5 è mogano. Il numero 6 è mogano. E anche questo è molto oscuro, vuol dire. Il 6 è rosso. Questo come in altre aziende. Il numero 4 è rame. Il numero 4 è rosso. Il numero 3 è oro, dorato. E il numero 3 è zolato, zolato. Ora, fate attenzione a una cosa. Dij per un momento, c'è un numero 7. C'è un numero 7. C'è un numero 7. Quindi giallo, rosso e blu Ogni volta che voi incontrate questo numero Le tonalità prendono un aspetto più naturale Allora, vediamo un esempio Allora, per esempio questo qua Allora, se per esempio noi prendiamo il 6,74, lo vedete? Ovviamente noi sappiamo che il 6 è biondo scuro Il 4 è rame E il 7 è marrone E infatti come possiamo vedere questa tonalità è un marrone caldo tendente al rame Lo vediamo molto bene Se io invece prendessi però, per esempio Se io prendessi il 6,4 Vedete? Vedete? Quanto differenza? Vedete? Quanto differenza? Quanto differenza fa il 7? Questo è il 6 è biondo scuro ramato E questo invece è il nostro biondo marrone ramato E questo è il nostro biondo marrone Ecco, lo vedete anche qua nel 6,37 Quindi il 3 è oro, dorato, il 7 è marrone 3, zolata, semiorca, coricinio Anche qua, se io prendo il 6,3 solo dorato ho questo colore Se io prendo il 6,37 E 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 se io prendo il 6,37 Sì, se io prendo il 6,37 Penso che questa cosa sia chiara, molto semplice Se hai qualche domanda Se hai qualche domanda e, per favore, potete prendere le ruote e rispettate. Ok. Vomini sono? A posto. A posto, perfetto. Quindi questo solo per allinearci sulla lettura del colore. Prostamente è per capire le basi principali, per capire le basi principali, per che potessi riuscire. Andiamo a vedere un'altra cosa, che invece è molto importante. Il prossimo, importante, che voglio показare. Che è questa, sempre per allinearci. Questa cosa. L'acqua ossigenata. Occhi svitil. Allora, in professional by fama ci sono 5 acchi svitilati. Voi sapete che in professional by fama ci sono 5 acchi svitilati. 5 volumi, 10 volumi, 20 volumi, 30 volumi, 40 volumi. 10, 20, 30, 40 volumi. Occhi svitilati. Qualcuno deve chiudere il microfono. Qualcuno deve chiudere il microfono. Chiunque deve chiudere il microfono. A chiunque svitilati. Grazie. Molto gentile. Grazie. Allora... Stavamo dicendo, pertanto, qual è la differenza, però, che, per esempio, abbiamo noi rispetto ad altre aziende. C'è un отличие da nostre compagni e da altre compagni. Qualcuno altro ha il microfono aperto. Tutti voi... Dicciata, cliccate il microfono, perché noi in usi si chiudono. Tu ce la fai, Alessandra, a chiuderli lì? Ah, sì. Colleghi, noi ci chiediamo. Alessandra, non ce l'ha connessa con noi. Va bene, ok. Ci chiediamo comunque. Giusto. Alessio, scusi. Sì, un attimo solo. È molto importante che chiudano il microfono. Odetto in modi diversi. Odetto in modi diversi. Ripeto un altra volta. Uvajagame, colleghi, paricmachere, пожалуйста, выключite ваши микrofone. Sdielate cancel на микrofone, так, che non c'è nulla, perché abbiamo due uchei, e non è difficile di ascoltare. Grazie. Alessandra, magari possiamo, чтобы выключить, Alessandra, è possibile che tu spegni i microfoni di tutti gli altri. C'è questa opzione o no? Ma Alessandra è collegata, mi sa di no, non la vedo io. No, Alessandra credo sia andata in una riunione in questo momento. Eh, no, Alessandra вообще пошла. Sì, ma Alessandra non è difficile, devono solo da, sul, nella parte bassa, sulla sinistra, cliccare sul microfono, automaticamente. Sì. In ogni caso, смотрите, все просто слева, внизу cliccate sul microfono, cliccate sul microfono, e tutto, il звuco non sarà. Mi sembra che sia posto, però ora, il disturbi non c'è. Mi sembra, che tutto ok, ci si услышano e potrebbero выключare il microfono. Allora, esatto, grazie mille. Allora, stavamo, stavamo dicendo, l'acqua ossigenata tutti le conoscete, non c'è niente. Non c'è niente. Vediamo quali sono però le differenze che questo fa in Professional By Fama, invece. Allora, intanto la nostra colorazione, come credo tutti sappiate, se la state usando lo sapete, si miscela uno a due. No, va-первых, la nostra crema, io credo, voi tutti lo sapete, si mischia uno a due. Quindi, 40 grammi di crema colorante, 80 grammi di ossigenata. 40 grammi di crema colorante, 80 grammi di ossigenata. 40 grammi di crema colorante. Esatto. Questo, però, fa una grande differenza rispetto a altre aziende che miscelano uno a uno, o uno a uno e mezzo. per cento? C'è un problema? abbiamo detto che ci sono abituati a lavorare non il volume ma il percentuale allora 1,5% 1,5% quindi adesso parliamo di 1,5% andiamo avanti perfetto, l'1,5% come vedete nei capelli grossi o sottili non genera schiaritura se è miscelato con altro se io invece lo usassi per coprire i capelli bianchi il prodotto coprirebbe fino al 50% se io questo acислito usavo per nannettere i capelli bianchi i capelli bianchi sarebbe покritti per 50% 10, scusa, 3% già in professional bianchi fama su capelli medi o sottili può arrivare a schiarire un livello questo perché misceliamo uno a due per esempio rispetto a Vella o Goldwell da dove vengo io sono due aziende miscelano uno più uno per schiarire un livello hanno bisogno del 20 volumi questo significa che noi spesso scusami molto spesso noi con il 3% possiamo schiarire un livello ok? questo è un vantaggio per la cute e per i capelli ok, andiamo avanti vediamo che 6% 20% su capelli grossi schiarisce circa un livello su capelli sottili su capelli sottili medi e sottili può arrivare a due livelli ok, 9% ok, 9% здесь 9% 30% 2 livelli su capelli grossi 3 livelli su capelli 3 уровni sottili 3 уровня 5 se io lavoro con il superblond che è il nostro il superblond vi ricordo, si miscela 1 a 3 e infatti su capelli grossi può arrivare a schiarire fino a 4 livelli 4 livelli grossi scusa vai e 5 livelli su capelli sottili 5 livelli su capelli sottili ok 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 questi dati sono importanti perché sono quelli che ci fanno gestire il colore Adesso vediamo il terzo punto E poi iniziamo a vedere insieme alcuni esempi pratici Ok Allora Eccolo qua Allora l'altro punto importante L'altro concetto importante Credo che si va bene E ovviamente tutte queste informazioni le trovate dietro i pannelli della cartella Se non sono altro che i retro dei pannelli della cartella Trovate tutte queste informazioni Potete consultarle quando volete o condividerlo con i vostri collaboratori Per avere... Molto rapidamente andiamo a vedere una cosa importante Quando noi andiamo a cercare i capelli Questa scala si chiama scala cromatica E ovviamente rappresenta i livelli del colore dei capelli naturali E quello che vedete sotto ogni numero E il colore... E il flore del totale di melanina calda E questo è il flore del tetto della melanina Che si manifesta nel momento in cui scala i capelli fino a quel dato livello allora iniziamo a vedere la cosa già qui in un modo un po' diverso rispetto a quello che normalmente viene detto facciamo un esempio pratico supponete che voi avete una base naturale di livello 6 e volete arrivare a un livello 8 normalmente si dice devo schiarire due livelli 7 e 8 e questo è corretto, normale ma in realtà non è vero ma iniziamo una cosa che sicuramente credo che vi servirà molto, vi aiuterà molto nel lavoro il colore, o meglio l'acqua ossigenata non schiarisce mai per livelli ma schiarisce per tonalità di colore ma schiarisce per tonalità di colore vediamo perché se io devo arrivare dal 6 all'8 come abbiamo detto gli step sarebbero 7 e 8 quindi 2 ma noi sappiamo che in realtà il 6 che noi vediamo tipo io sono un 6, no? ma in realtà la mia base naturale è quindi questo è il primo attenzione dopo di che deve arrivare alla seconda attenzione che è l'arancio, che è l'arancio siamo due, perché sono sette che è la attenzione giallo-arancio per arrivare a ottenere un bel lotto deve arrivare alla terza attenzione che è il giallo ecco perché si deve sempre cercare di ragionare in questi termini cioè dare all'acquassigenata questo tipo di concetto in modo che quando andiamo a raggiungere il livello il colore sarà più fedele il colore finale il colore finale adesso vi faccio vedere un esempio grafico solo per iniziare un po' a... allora prendiamo questo esempio qua questo è un esempio supponiamo che io da questo colore da questa tonalità io voglia ottenere mettiamo un colore chiaro prendiamo questo supponiamo che io voglia ottenere questo colore va bene? come vedete questo è un 9,74 perciò un colore caldo quante tonalità devo scuiedere da cinque al nove? una cosa di sempre loro che quando faccio una domanda non è un test non si devono sentire quindi che dovrei fare se da una base 5 così devo fare un 9.74 quanti totalità stessi ok perfetto andiamo a vedere la scala cromatica effettivamente i livelli sono 4, 1, 2, 3, 4 ma le tonalità da schiarire? no le tonalità da schiarire sono 5 perché sotto al 5 troverò l'arancio è una tonalità poi andrò al 6 troverò l'arancio giallo sono 2 tonalità poi andrò al 7 e il giallo-arancio sono 3 tonalità dal 7 per andare al livello 8 troverò il giallo e la quarta tonalità e dal giallo per arrivare al 9 troverò la quinta tonalità che è il giallo quindi se io voglio raggiungere questo risultato quindi se io voglio raggiungere questo risultato quindi se io voglio raggiungere questo risultato io come dovrei pensare? di andare a schiarire le tonalità che dal 5 al 9 sono 5 tonalità ok? bisogna svetliare bisogna svetliare bisogna svetliare 5 tonalità e una ultima cosa poi gli faccio fare la domanda e poi gli faccio la domanda e poi, Ruslan, voi задate un domanda non è sbagliato parlare di livelli, eh? non è sbagliato parlare di livelli, eh? non è sbagliato parlare di livelli, eh? la risposta che lui ha dato è corretta quindi, Ruslan, il vostro risultato è assolutamente правile perché se io parlo di livelli, sono 4 livelli dal 5 al 9 perché se io parlo di livelli, sono 4 livelli dal 5 al 9 perché se io parlo di livelli, ci sono 4 livelli dal 5 al 9 quello che ho imparato anche io dal laboratorio quindi non l'ho imparato dal laboratorio quello che ho imparato anche io dal laboratorio loro non fanno mai un conto dei livelli ma fanno sempre un conto delle tonalità che devono cambiare non bisogna considerare i livelli ma bisogna considerare i attenzioni sono diverse cose capite, da? di cui si parla perché vi ho spiegato questo in buona sostanza perché vi ho detto questa cosa? perché io parlo di questo? perché è la ragione per cui la professional by fama tanti anni fa perché 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 il colore è sicuro che il colore schiairendo meglio le tonalità perché perché ci ho tenuto a spiegare subito questa cosa quindi 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 è per questo io ho deciso se c'è una domanda, se vola fare una domanda, forse vola fare una domanda lui. Per questo, Ruslan, se c'è un domande, mi chiede la domanda, io lo слушare. Rечь va al 5, ma Davide ha fatto vedere la tablica del 4. Allora, se si trattava del quinto livello, invece ha iniziato a dispegarre del quattro livello. Non ho capito. Rечь va a dire, per favore. Allora, prima è stato detto di salire dal quinto livello al nono, giusto? Sì. Quando Davide ha iniziato a dimostrare il rinforzo del quattro livello, ha iniziato a spiegare come si alzano i livelli, sei partito dal numero quattro. Da quattro? No. Quattro? 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 Cinque? Quattro? Quattro? Lo rifaccio, lo rifaccio, lo rifaccio, lo rifaccio. Давайте, io повторюсь. Questo quadratino che è qua… Questo quadratino è la melanina naturale contenuta nei capelli di livello cinque, quello che è sotto. Questo è il quattro, il quattro è il quattro, la mia melanina sottostante è questa. Quando io metto il 6, io sono il 6, dicevo prima il 6, tu in questo momento non vedi la melanina arancio, non la puoi vedere, vedi il 6. Se io mettessi il decolorante anche un minuto su miei capelli… Se un minuto lo risciacquo, inizierei a vedere i miei capelli un po' arancioni, un po' caldi, i miei capelli stessi stessi oranci. Ecco perché questa spiegazione per noi sta diventando molto importante. perché abbiamo visto che quando si capisce questo concetto che è un pochino più, diciamo, più del laboratorio… perché quando si capisce questo concetto di lavoro, diciamo, di ottenere i risultati molto migliori e di sfruttare meglio… … … … … … … però lo rifaccio così è chiaro allora повторiamo naturali 5 naturali 5 marrone che vedo devo raggiungere la prima tonalità che è l'orange è il primo attenso da qua devo raggiungere la seconda tonalità che è l'orange giallo da qua devo raggiungere la terza che è giallo-orange e vedete che il giallo è la base che supporta generalmente il giallo quindi per andare al 9 devo aggiungere ancora una tonalità e andare al giallo chiaro e per andare al 9 mi bisogna подняться che è la melanina che generalmente supporta al 9 quindi sono 5 tonalità devo leggere dentro ok adesso vediamo l'esempio di prima vediamo l'esempio di prima il colore che prenderò per fare questo ovviamente sarà il mio 9,74 poi avrò bisogno dell'acqua ossigenata più alta che ho quindi il 12% però come avete visto nella scheda il 12% nel colore classico arriva a schiarire 4 tonalità quindi abbiamo bisogno di potenziare quindi il 12% mi bisogno di potenziare quindi se io vado a riprendere la mia scheda quindi se io vado a riprendere la mia scheda quello che mi può far arrivare 4 уровни 5 tonalità è il superblond quindi è molto semplice tutto molto просто a questa miscela aggiungere un prodotto mettiamo qua un prodotto che vado a potenziare la capacità schiarente in questo caso cosa che усillisce la capacità schiarente io vado a vedere nella serie superblond che cosa ho questa è la serie fredda la serie calda ad esempio il 10EC che credo alcuni di voi conoscano è un super schiarente molto intenso questo è un super super oscoltatore e io posso aggiungere alla mia miscela il nostro 10C voi in questa miscela можете aggiungere 10EC 10EC e lo vediamo vedete, da? вот так ok vedete che la mia miscela sarà questa in questo caso smesse sarà questa in questo caso e perciò aggiungerò il 10C добавляю 10C allora добавiamo grandissimo 10C увеличили ok ok ecco ma volevo solo chiudere un po' di più la cosa per renderla più ecco ok perfetto ok quindi per esempio in questo caso potrei miscelare in questo caso facciamo questa smesse 9,74 30 grammi se noi ragioniamo così con le tonalità quindi ragioniamo se noi ragioniamo così con le tonalità il colore Byfama ci darà molte più soddisfazioni rispetto ad altri colori ma questo non perché noi siamo dei fenomeni assolutamente non è perché non sto parlando di questo per farci un vanto noi non è questo il mio spazio ma per capire che un modo diverso di vedere la cosa ha fatto creare un colore come Absolute che è più facile da usare in realtà ok allora su questo primo esempio diciamo abbiamo detto già delle cose piuttosto importanti allora andiamo a vedere вот на этом простом примере мы рассмотрели очень важные momentы andiamo a vedere altre cose diciamo molto importanti oggi più o meno давайте посмотрим на следующие столпы scusa scusa prego столпы на которых держится наша компания probabilmente oggi parleremo più di Absolute poi magari altre situazioni andremo su altre не знаю наверное сегодня мы будем говорить практически все время про Absolute при другой встрече поговорим о других l'argomento è abbastanza ampio per esempio abbiamo preparato un lavoro sui biondi molto grande мы подготовили очень интересную работу по blonde потому 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 что может быть color а работать с блондами это совершенно другая история Quindi, se loro avranno piacere, volentieri faremo una sessione esclusivamente... Ok, oggi, diciamo, è per farvi usare al meglio Absolute in generale. Ok, allora andiamo a vedere un altro aspetto importante. Eccolo qua. La copertura dei capelli bianchi. Allora, vedete che qua c'è uno schema... È sempre uno schema posizionato nella parte posteriore del pannello. E semplicemente vi dice quali sono le regole per coprire i capelli bianchi in Professional Byfama. Allora, per esempio... E qua potete vedere da 0 a 30% di capelli bianchi. E supponiamo che il nostro colore obiettivo è il 6.74. Noi per garantire una copertura uniforme... Sì, pronto? E voi sapete che il 6 è la nostra base naturale. Quando non ci sono... Se io invece mi trovo di fronte al 30-60% di capelli bianchi... Se io invece ho 30-60% di capelli bianchi... Che arrivano fino al 100% di capelli bianchi... Ovviamente io voglio avere sempre il mio 6.74. A questo punto si mette 20 grammi di base naturale... Ma 5... Per quello di scura del colore obiettivo. combativo sono 30 às 50 grammi sui bianchi... E c'è ogni un po' più the same, più il cni. Prima usate 20 grammi di 7 con 25 grammi diагie... Adesso... Adesso usiamo 20 grammi di 5 con 20 grammi di settore... E ora usate 20 grammi diiksidrati... E ora usate il Victorino di g these 2osten di 분�i... E altro Danke, ora usate la scura del plico espori dalle XX. grammi di 5 con 20 grammi di 674. Questa è una regola generale molto semplice che vai fa ma applica più o meno su tutti i colori. Poi ricordiamoci sempre che questo è molto importante per noi coloristi che non c'è mai un solo modo di colorare i capelli, non esiste mai un modo solo. Perché si possono avere tanti modi per colorare i capelli. Ma quello che noi ovviamente vogliamo fare è dare la via che garantisce il risultato più attendibile e più sicuro. Ok, adesso detto questo andiamo a vedere qualche esempio. Ok, allora, facciamo proprio un esempio pratico. Adesso vi faccio preparando una scheda per un esempio pratico. Allora, supponiamo che io ho questa situazione di capelli. facciamo finta. Riescono a vedere bene? Gli chiedi se riescono a vedere bene il mio schermo, per favore? Colleghi, tutti bene vedere il mio occhio. Ruslano, vedete l'occhio? Tutto bene. bene. Ok, ottimo. Allora, se io in questo caso ho 100% di bianchi e io voglio ottenere il 674 sia sulla base che sulle punte. quindi vuol dire che sulle punte. Quindi vuol dire che io voglio 674 qua. Io voglio 674 qui. E voglio lo stesso identico colore per la base. dove ho accettato. Il 7.3 che vedete qua è un vecchio colore, immaginiamo che sia un vecchio colore residuo sulle punte dei capelli. 7.3. E' un vecchio colore che non è rimasto ancora sulle punte dei capelli. quindi adesso vorrei che qualcuno di loro mi dicesse come farebbero qua in questo caso. Loro me lo dicono e io scrivo. Allora, gli do un minuto di tempo. Un po', un minuto. Un minuto, un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Bene, vai, direi che qualcuno vuole provare... Se lo vuole, oppure lo puoi anche scrivere nella chat se vuole. Non lo so, Ruslan, potete provare nel chat a scrivere. Mi basta solo un esempio. Solo un esempio, per esempio. Da parte vostra. Dai, partiamo dalla base. Cosa farei? Eccolo, intanto acqua ossigenata. Eccolo, dalla radice, giusto? Partiamo. Sì, della radice, dei bianchi. Ok, iniziamo con la carne. A chi si tratta? In concentrazione. 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 In acqua ossigenata. Concentrazione e chi si tratta? Qualcuno mi risponde? Allora, vedo qua. Mi hanno scritto... 6 per cento, bene, più 6.74 più 5. Benissimo, bene. Allora, attenzione. Quanto tra 6.74 e 5? Quanti grammi? Potete, come avete fatto, scrivere nella chat? Va benissimo, eh? Quindi, colleghi, potete pensare in chat. Uno a uno. Ok, quindi facciamo 20 grammi. 20 grammi. 20 grammi, benissimo. E quindi l'acqua ossigenata... 20 grammi. Abbiamo, ovviamente, 80 grammi. E per le lunghezze, come si lavora invece per ottenere lo stesso colore e lunghezza? Cosa devo fare? Cosa devo fare? Per avere lo stesso colore della base... ... ... ... ... ... lignito. Benissimo. Cruta? Benissimo. Molto bene. Molto bene. Questa concentrazione di acqua ossigenata va molto bene, può andare bene. Considerate che però se usate Absolute e volete dare la massima resa del colore, nel senso che il colore si sviluppi bene al 100%, e chiedete che la crema abbia massimamente la sua красità al 100%. Già, così verrebbe bene comunque, quindi va bene. In ogni caso, questa formula che c'è ora, sarebbe molto bene. Meglio ancora se usassimo il 3%. Perché in questo modo andiamo a sviluppare tutta la parte, diciamo, del colore più, come posso dire, tutto il colore, tutti i coloranti contenuti. In questo caso, il colore, la crema, sarebbe molto più bella, più bella. Ok. Adesso andiamo a vedere invece un altro tipo di situazione. Un attimo solo che trovo il punto... Adesso andate, ora sto... Allora... Ok. Ok. Ecco, per esempio... Andiamo a vedere un altro punto importante, diciamo, della nostra, diciamo, situazione. Adesso andiamo a vedere una cosa un po' più realistica, no? Prima vediamo... Allora, ora vediamo cosa può essere in realtà. No, scusate, ma non è quella però che volevo io. Mettiamo solo, volevo trovare un'altra... Vado a vedere. Vado a vedere. Ok, va bene, partiamo da questa qua, va bene, va bene. Ok, allora, dicevamo... Quindi, vediamo un attimo questo tipo di situazione. Vado a vedere, andate con un cartino. Allora, io... Come succede nei capelli veri? Ogni... Come succede nei reali... Reali... Realiate... Una parte frontale, una parte centrale, una parte posteriore. Ese frontale, centrale e zattelare. Ezzattoliamo... Che io voglio come colore desiderato un sei naturale su tutto. Dopustim, желаемый цвет, шестерка naturale, po' всей голове. Tutto. Qua, sulle punte, nella parte frontale e centrale, come si vede a livello 10, decolorati, 10. Sulla parte posteriore, la lunghezza è più gialla, come stiamo vedendo qua. Io voglio un colore tutto uniforme, tutto della stessa tonalità, quindi vuol dire che dovrò lavorare in modalità diverse. Allora, facciamo attenzione. Primo punto. Io devo ottenere il mio 6 sulla radice. Il primo punto devo fare questo 6 sulla radice. Ora io ho una base 5. Qual è il colore che uscirà fuori dalla base 5? C'è tonalità per fuori. Quando vado a schiarire, quale sarà il pigmento interno residuo che verrà fuori? Quando vado a schiarire, quale sarà il ottimo? Quando vado a schiarire? Ruclano, включite il microfono, non si non s'entrino. Orancino. Bravo. Orancino. 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 Esattamente. Quindi io dovrò creare una mischela per la base. Vado a combattere il colore in eccesso, perché probabilmente quando io schiarisco… quando io schiarisco, probabilmente succederà questo. … 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 Questo colore da qua probabilmente inizierà a diventare saldo, ad avere questo tipo di melanina nella schiaritura, perciò il 6. Quindi dovrò andare a inserire su questa colorazione un'altra tonalità che vada a combattere questa. Quindi dovrò andare a utilizzare un'altra tonalità che vada a combattere questa colorazione. Quindi andiamo nella nostra cartella colori, se prendiamo la nostra farbcardia. Ok, prendo qua, così la vedete bene. Allora, un attimo solo che prendo le due tonalità che stanno accanto. Eccole qua, perfetto. Adesso ho due attenuti che sono abbastanza a questo. Allora, il mio colore che voglio ottenere è questo. Abbiamo detto che abbiamo la tonalità che abbiamo visto prima, che darà schiarendo leggermente un po' sull'arancio. E noi abbiamo detto che il attenzione, che nel attenzione sarà un po' sull'arancio. Guardate sempre, guardate sempre, la cartella si legge così, no? Per chi non la conosce. Vedete che, praticamente questa striccia qua di colore, questo è il pannello dei castanchi caldi e questo è il pannello dei castanchi caldi e questa è il pannello dei castanchi caldi questa è una pannello spravo è un caldo caldo qui trovo su ogni pannello in alto la prima che vedete qua marrone sta indicando che tutti i colori che stanno sotto questa striscia sono caratterizzati da questo marrone caldo se io lo voglio neutralizzare cioè se io voglio avere un colore neutro il controcolore che l'azienda suggerisce il controcolore opposto è il blu lo vedete sopra questo è la strisciolina più sottile quella sopra è la strisciolina più sottile quindi se io voglio andare a vedere qual è il controcolore ideale per combattere diciamo l'effetto un po' caldo per esempio per esempio vado a cercare le tonalità che stanno sotto il blu e quindi vanno nella fascia del blu e inizio a trovare la serie 17 e la serie 08 questo è per capire che la cartella colori è utilizzata in modo tale che vedete in modo tale che la cartella è stata fatta in modo tale che la cartella è fatta è come un navigatore è come un navigatore se io facessi un altro esempio non so per esempio se prendessi questa altra fascia di colori se noi lavoravamo se noi lavoravamo con questa altra fascia di colori tutti quelli che stanno sotto a questa striscia di colori sono ovviamente più caldi vedete sono più colorati quindi vuol dire che il controcolore inizia già a essere un blu verde come lo vedete qua sopra questo significa che il controcolore è diventato quindi se io avessi un colore tipo così se io avessi un colore tipo così questo è il colore io semplicemente seguo la linea del set questo è il colore io semplicemente seguo la linea del set 770 è il colore 774 io vedo il colore io vedo i colori che stanno sotto a questo verde quel verde che veniva prima e vedo i colori qui sono i colori ideali per andare a combattere per andare a combattere una tonalità così rossa per andare a combattere posso usare un colore freddo volendo ok quello che voglio dire è che la cartella colori vi parla vi aiuta farbkarta chi non si chiama chi non si chiama chiama ma c'è qualcuno scusate io ma chiama chiama con voi mi 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 Allora, quindi stavamo dicendo la stessa cosa, la possiamo vedere anche nei biondi, no? Tuttavia, noi vediamo in blondi. Se io vado a vedere questi biondi, questa serie qua, se vi guardate in questa serie, questi biondi, quindi che sta sulla tonalità, diciamo, calde, vedete che sono caratterizzate da questo colore, che caratterizzano in questo pannello, queste tonalità sono caratterizzate da questo giallo, la strisciolina sottile rappresenta sempre il colore che le va a neutralizzare, che mi dà la neutralità. La tonica è il colore che neutralizza. Per esempio, se io ho questo colore qui, e voglio trovare la tonalità che effettivamente lo va a neutralizzare, e voglio trovare l'atteno che neutralizza questo colore, e il gioco è lo stesso. Vado a seguire la linea del 9, fino a che inizio a incontrare colori che stanno sopra al viola. Il primo è il 9,08, già così possiamo vedere che... Il primo è il 9,09. Oppure posso andare più centrale, sempre sul primo è il 9,89. Oppure può essere il 9,89, e così via. Allora, perché questa cartella è stata fatta in questo modo? Perché questa cartella è stata fatta in questo modo? Perché, ovviamente, se voi dovete fare qualsiasi tipo di lavoro, avete sempre una risposta diretta sulla cartella. Perché, se qualsiasi domanda che non avessero, il risultato che non avessero avessero avuto la cartella. Gli faccio una domanda a loro, una domanda per loro. Quale è, secondo loro, la cosa più importante che deve sapere fare un colorista? Quale è la cosa più importante? quali è la cosa più importante per colorista? Che ha dovuto sapere? Quale è la cosa più importante? Oltre, quali, chi velo, chi velo, chi velo. Oltre, chi velo, chi velo, chi velo, chi velo. Allora. Oltre, chi velo, chi velo, chi velo. Non stessi, chi velo, chi velo, chi velo, chi velo. Chi velo, chi velo. Allora, bisogna sapere tre momenti. Quale è il livello di schieritura? O di quanti livelli bisogna usare? Il pigmento di colorante con il quale lavora il tecnico. E il corso di neutralizzazione. Ok. E finito. E ricordare neutralizzazione. Bravo. Quando un colorista ha padronanza totale di questa cosa... Quando un colorista questo servizio владece... Però la professione Bifama si è chiesta, come posso aiutare coloristi, esperti? Questo è bene, ma in suo tempo Bifama si è chiesta, come posso aiutare professionali e coloristi. Ecco perché voi vedete la cartella suddivisa in settori. In modo che per voi sia più facile fare un confronto e avere sempre la risposta o almeno la strada giusta, poi uno la personalizza, ma almeno sempre avere la strada giusta che ci serve. Quindi, per esempio, in questa, diciamo, torniamo alla situazione di prima. Allora, andiamo a riprendere la stazione, così cerchiamo di capire bene ancora un altro aspetto. Eccolo qua, ok. Quindi io a questo colore qua, nella mia base, dovrei aggiungere un colore più freddo. E quindi, in questo caso, potrebbe già andare molto bene. E in questo caso, ideale, molto bene, potrebbe подходire un 608, eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Quindi la mia miscela per la base. Per evitare, diciamo, di avere un colore che sia troppo caldo, sia sarà almeno naturale. In questo caso, sicuramente, potrebbe essere anche una tonalità, o scusate, una grammatura tipo questa. 20 grammi di 6. Formula, come potrebbe essere, 20 grammi, 20 grammi. Ok. Eccolo qua. Va bene? No, di questo. Quindi, in questo caso, se io vado a riprendere la mia... Scala cromatica. Quindi, se io abrattare la mia cromatica cromatica... Sono 5, vedete? ...so, con 5, vedete? ...so, devo scurire, in teoria, un livello. Teoreticamente, mi bisogna svelire un livello. Ma devo variare di due tonalità. No, Dool, dovrebbe cambiare due tonalità. Perciò, dal 5 devo andare all'orange, quello che c'è sotto al 5. Is 5 mi bisogna riuscire in oranze. Quindi, una tonalità che devo raggiungere e dall'orange devo arrivare all'orange giallo. Chiarato? E, in 5 mi bisogna riuscire in oranze. Ovviamente, in professional by fama, perciò, noi andremo a utilizzare, in questo caso, il 6%. Ok? E, ovviamente, lavorando by fama, voi lavorate a 6%. E, chiaro, fin qua chiedi se ci sono dei dubbi, se... Ma, colleghi, da questo momento, a tutti, è tutto понятно, è tutto chiaro? A matrosi non c'è problemi. Ok, andiamo avanti. Allora, adesso andiamo a vedere invece le lunghezze punte. A ora, adesso, vediamo le valli dalle e le valli dalle. Perché, in una testa del genere, io voglio sempre il mio 6. Ma, stavolta... Вот, как правило, по длине, на таких valli dalle, io voglio, che sia una 6. Ma, in questo caso... Ho il problema contrario, no? Cioè, lo ho il contrario. U me ne ha un problema. Stavolta, il capello qua non c'è più poco colore. E... E platino. Quindi, a volte, avevo questo colore, che era quello che mi dava problemi, perché magari mi sarebbe diventato troppo caldo, e lo devo neutralizzare con un colore freddo. Certo? Вот. Если ран... Potresti ripetere, per favore. Sì, certo. Pentre prima, sulla base naturale, schiarendo... Do... Do этого, на натуральной базе, в процессе осветления... Avrei il problema, diciamo, di avere la melanina residua calda... U me ne ha un problema, quindi, abbiamo dovuto fare il ragionamento di andare a mettere un colore più freddo insieme al nostro colore obiettivo, per andare a neutralizzare... E, per questo, abbiamo già utilizzato un colore più caldo, che è stato uguale. Sulle lunghezze punte, che sono già decolorate... Ma io voglio questo identico colore, che ho fatto sulla radice, lo voglio uguale. Quindi, che cosa dovrei fare in questo caso? Qua, la mia soluzione l'ho trovata, ed è questo il modello. Qua, invece, cosa devo fare? La stessa cosa? A po' linee, a conci, che bisogna fare? Qual è il passaggio fondamentale per ottenere il risultato che mi serve qua? Qual è la cosa però importante? E come lo riportiamo, no? In questo caso, noi possiamo avere la nostra esperienza. Noi, noi possiamo avere la nostra esperienza. L'esperienza personale, quindi va bene. L'esperienza personale, quindi va bene. Ovviamente, la professionale Bifama vuole dare, invece, un'indicazione precisa. Su come, quindi, effettuare questa ripigmentazione. E con quale colore devo farlo in funzione al risultato finale che io voglio ottenere. Ok. Allora, andiamo a vedere sempre fra le nostre schede, i nostri pannelli dietro la cartella. che ci mostrano. Eccolo qua. Allora, questo è il pannello della ripigmentazione. Non vi spaventate, perché, in realtà, è molto semplice. Vederlo così potrebbe spaventare un po'. Allora, adesso lo dividiamo in settori, così lo vediamo più grande. Ogni parte la vediamo più grande. Allora, ora lo dividiamo in zone e lo aumentiamo. Tutto più facile e chiaro. Ok, andiamo a vedere il primo settore. Allora, vedete che la tabella si legge da sinistra, ovviamente, verso destra. Qui voi avete la modella come si presenta prima, bionda, in questo caso platino. Ok. Qua invece vediamo il risultato che la cliente vuole, desidera. E che io vi posso presentare. Allora, vedete il risultato che la cliente vuole e desidera. E qui vedete il risultato che deve essere fatto, ovviamente, per raggiungere questo, diciamo, il risultato al massimo. Il risultato che è necessario per ottenere il risultato. Ok. Allora, andiamo a vedere come funziona il pannello. Vedete che qua ci sono dei numeri. Vedete, qui ci sono le riflessature. E sono le tonalità. E sono le riflessature. Questo è proprio attenzioni. Quindi la serie 18, la serie 11, 89, la serie 18, la serie 11, la serie 19. Tutte le tonalità che, se le voglio ottenere su una testa così decolorata, devono essere ripigmentate prima con queste tonalità che vediamo qui. Molto semplice. Allora, io ho livello 10, devo ottenere il 6-18, quindi addirittura freddo. Allora, io vado a vedere, questa è la scala dei livelli. E qui ci sono nominati i colori ideali per ripigmentare il livello. Allora, vediamo che sul 6, il mio obiettivo è 6.18, ma potrebbe essere 6.18, ma potrebbe essere 6.18, potrebbe essere ognuno di questi riflessi che trovo scritto qua. Potrebbe essere 6.87, 6.13, 6.31 uguale. Questo valore non cambia. Quindi dovrà usare per ripigmentare il 7.03. E, guardate, questa cosa ce l'avete sulla cartella. Se non avete questa cartella, scrivetevela. Se non avete questa cartella, se non avete questa cartella, niente страшного. Perché si fa sempre così, quindi è semplice. Perché i правili sono sempre uguali. Allora, qua io so che devo usare il 7.03, perciò utilizzerò. Quando io so che devo usare il 7.03, io uso 10.03. 30 grammi di 1.5% di acqua secenata. 30 grammi di 1.5% di acqua secenata. E 10 grammi di zero plus. E 10 grammi di zero plus. E 10 grammi di zero plus. Zero plus. Ora, e oggi si chiama Bond Plus, ma dopo lo vediamo. Per capirci con chi magari non lo ha mai utilizzato, questo Zero Plus che oggi si chiama Bond Plus, fa parte di quei prodotti tipo Olaplex, loro sanno che cos'è, dovrebbero sapere. Se lo conoscono, se sanno che cos'è, lo conoscono, se sanno che cos'è, lo conoscono, questo è un prodotto che Byfama ha fatto sulla scia di quel prodotto che ha avuto successo che si chiama Olaplex e l'ha fatto con certe caratteristiche di protezione del capello. Perchè quando mettete questo prodotto all'interno del colore, Andate mentre colora a regenerare profondamente la struttura dei capelli. Perchè ovviamente, come noi vediamo qua, E loro lo sanno bene, perché sono tutti professionisti. E voi questo molto bene. Problemi sono due, non è uno solo. Il primo è ovviamente ridare il pigmento mancante per ottenere il colore che voglio, perché il colore... Perchè se è tanto schiarita così... Perchè se è tanto schiarita così... Perchè se è tanto schiarita così... Perchè se il colore ha avuto un danno... Perchè se il colore ha avuto un danno... Quindi la prima vado a dare il colore mancante... Per dare il fondo... E la seconda vado a ristrutturare il capello. E la seconda vado a ristrutturare il capello. Questa viscera viene applicata su tutti i capelli. E la smessa la noi la mettiamo su tutti i capelli. Sta in posa 15 minuti. La scelta è 15 minuti. Dopo che si risciacqua si fa il co-wash, che è il nostro shampoo conditioner specifico dopo colore. Potom smyviamo con il shampoo co-wash, speciale shampoo dopo l'accesso. Si mette la maschera Infusion, che è quella dedicata allo Zero Plus, alla fine avremo il capello ripigmentato e molto ristrutturato. Quindi il passaggio successivo... E la seconda vado a ristrutturare? Semplicemente in questo caso però voglio il 6-18. Faccio il 6-18 a 10 volumi. Tutto quattro. Se vogliamo ristrutturare il 6-18, io ristrutturare il 6-18. Ci siamo? È chiaro il concetto? Io ristrutturare il 6-18. È chiaro? È chiaro? È chiaro? È chiaro? È chiaro? Ok. Andiamo avanti. Allora. Torniamo... No, aspetta. Questa di qua. Ok. Allora. Vedete che... Perciò adesso se io qua vado a ripigmentare con il mio colore caldo... Poi farò il 6 a 10 volumi su tutto. Ok. Quindi userò il 7-03 per ripigmentare. . Dopodiché applicerò il 6 a 10 volumi, che è il mio colore ab�ito. . in questo caso. Il consiglio è questo. applicate il colore radice, dopo dieci minuti applicate la ripigmentazione sulle punte, quindi aspettate poi i quindici minuti, quindi risciacquate tutto, fate lo shampoo, come abbiamo detto con wash, e poi andiamo ad applicare direttamente il nostro 6 a 10 volumi sulle lunghezze e punte, quindi in questo caso in due step si riesce a ottenere ovviamente un colore praticamente perfetto, perché il colore sarà brillante, avrà una bella durata nel tempo, e il capello acquisirà un aspetto molto più sano. Ok, allora andiamo avanti e cerchiamo ancora come funziona la scheda, vedete? Vedete, qua c'è scritto, esempi colori freddi, cool colori freddi, naturali freddi l'abbiamo appena visto. Esempio colori freddi, vedete? Vedete, qui avete tutte le tonalità che riguardano questo tipo di ripigmentazione. Vedete, qui si cambia il tema, cioè io non voglio più un colore freddo, ma voglio un colore molto caldo, 6,43. Vedete, qui con il risultato è che i passaggi non cambiano, sono sempre gli stessi. Ok, allora partendo sempre da una bionda chiara, io voglio ottenere 6,43. Il livello 6, vado nella mia scheda a vedere dov'è il 6, eccolo qua. E qua mi suggerisce il 7,37 per ripigmentare. Stessa cosa, 10 grammi 7,37, 30 grammi di 1,5%, 30 grammi di 1,5%, 10 grammi 0+, uguale. E 10 grammi 0+, 15 minuti di riposa. Viderica 15 minuti. Faccio lo shampoo go wash e la maschera infusione. Shampoo go wash e maschera. A quel punto il capello è pronto a base di maturata. Per fare direttamente il 6,43 a 10 volumi, il colore obiettivo. Volosi sono stati per usare 6,43 a 10 volumi. Ok, adesso gli faccio un video. Adesso voglio mostrarvi un video. Giusto per capire un lavoro che è stato fatto per mostrarvi i risultati di realizzazione. Vediamo un po'. Eccolo qua. Dovreste vederlo. Spero che lo vediate bene. No, надеюсь, che вам будет хорошо видно. Faccio prima una cosa. Aspetta, adesso si apro un attimo il video. Poi se mai faccio una cosa che dovreste vederlo meglio. Se no va a scatti. Aspetta, adesso si faccio un attimo solo. Aspetta, adesso si faccio solo un attimo. Secondo, secondo. Ok. Tecnicamente. Vediamo, riuscite a vedere bene. Allora. 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 se non riescono a vedere bene? Allora, come stanno vedendo qua, per far capire l'esercito. Come vedete, la modella ha qua capelli molto decolorati. Vedete, qui abbiamo la sua base naturale, che è un 4G. Qui, vedete, da, non è una base naturale. E qua abbiamo un colore residuo vecchio, più o meno un colore. A qui, da 6,7. Abbastanza, abbastanza. 6,7. Ok. 6,7. Allora. In questo caso, la modella, noi vogliamo fare un colore, diciamo, caldo, leggermente mogano, sul livello 5. In questo caso, noi vogliamo ricrezzare la modella in tuello teneo di 5, mahaon. Uniforme. Perciò faremo la ripigmentazione, come abbiamo visto adesso. Una rottura, quindi facciamo la ripigmentazione. In questo caso, siccome vogliamo un 5, quindi utilizzeremo un 6,37, vogliamo un 5 mogano caldo, vogliamo un colore caldo. Siamo 6,37, тепlo. Stesso discorso di prima, quindi useremo 10 grammi di 6,37. Ispolviumi in lavoro 10 grammi 6,37. 30 grammi di 5 volumi di 1,5. 30 grammi di 1,5%. E poi 10 grammi di Zero Plus. E si va, ovviamente, ad applicare sui volumi. 10 grammi Zero Plus. E nonostitelo. Ora, vedete che il prodotto va messo bene, va applicato bene. Non è un passaggio... Vedete, il strumento è necessario di nonostare bene, качественно, cedro. È un passaggio che va arricchito bene, che va, diciamo, lavorato bene. Neanche necessario di nonostare. Non ci deve essere prodotto in eccesso. Mnogo non è necessario, ma anche meno. Di solito non ve ne serve tantissimo di prodotto perché è molto liquido. La soluzione finale è liquida, no? L'effetto che viene è molto liquido, perciò riuscite a gestirlo molto bene sui volumi. Quindi, in questo caso, vedete, la ripigmentazione viene ben lavorata, finata. Ricordatevi che in questa fase non state solo ripigmentando, ma state ristrutturando il capello. Grazie a tutti. Il capello è ben ripolorato, è ben ristrutturato. Il capello è ristrutturato, ha ristrutturato, ha ristrutturato, ha ristrutturato, ha ristrutturato. Voi lo vedete anche qua sulla punta. Ora faccio una tecnica di colore molto semplice. E ora faccio una tecnica di colore molto semplice. e uno più caldo verso il marrone. Ovviamente applicherò anche la radice. e poi vado a lavorare sulle lunghezze e punti. Il mio capello ha la base ideale per essere colorato direttamente. Infatti, ho il capello ideale per mangiare una strada, per applicare tutto il colore della base fino alle lunghezze. Io conoscere il colore di dino e conci. Ok, adesso in questo caso io farò una tecnica molto semplice, alternerò i due colori, uno diciamo un po' più rosso, uno un po' più marrone. Quindi vedete che la ripigmentazione in questo caso mi supporta diversi tipi di colore che io posso fare per andare a dare alla modella ovviamente la tonalità che voglio. In questo caso la tecnica di colore è una tecnica… Allora, come posso dire, perché c'è un nome in inglese, ma… E' una tecnica di acracciamento in inglese che si chiama… Allora, è una defragmentazione del colore. Perché si utilizzano linee oblique, sono tutte linee oblique, su quelle due, diciamo, sezioni superiori si vanno a fare tutte linee oblique. In modo che quando asciughiamo i capelli l'effetto sarà molto naturale e non ci saranno delle strisce. Ovviamente si procede più o meno con ciocchi di due centimetri di spessore. Sempre in diagonale, si mantiene sempre la diagonale. Questa è una bella tecnica, molto semplice. E' una tecnica molto semplice. Io adesso in questo caso l'ho usata utilizzando appunto un mogano, tipo un 5,45 per capire. E in questo caso io ho usato un mahaon 5,45 alternato a un 5,74 Però si potrebbe fare la stessa cosa in un biondo. Se io avessi una donna bionda voglio andare a creare una texture di colore nel biondo Facciamo un esempio, un biondo 10 potrei utilizzare un 10,17 che è un beige alternato a un 10,89 che è un beige alternato a 10,19 con 10,19 10,89 10,89 E' un modo per dare texture molto molto semplice Per dare la dimensione e la texture al risultato. Ovviamente oggi in questa prima sessione che abbiamo fatto insieme oggi Il mio obiettivo è stato quello di darvi più nozioni che potessero, diciamo, crearci le basi per utilizzare in modo uniforme il colore tra di noi C'è chiaro che poi le volte successive sarà un po' meno noioso Perché andremo a vedere molto più video, molto più tecniche, molto più cose Non possiamo, ovviamente, dobbiamo prima condividere sempre una base di partenza altrimenti è impossibile lavorare insieme Ok Allora, per esempio Tornando a... Dove? Di qua Dappunto 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 Per farvi vedere i colori, per esempio, di cui si poteva parlare in un biondo E se io andiamo a parlare in un biondo come questo, no? Il vantaggio dei pannelli, dei pannelli staccabili nella nostra stessa della colore Ecco, che voi potete chiaramente andare a esaminare molto bene le tonalità Ora, se io vado a vedere questa, per esempio, questa ragazza qua Vedete che io ho diversi tipi di biondo, potrebbe essere, ad esempio, di prima Io, in questo caso, potrei utilizzare una tonalità come il 10.9 Ok Un attimo solo che mi prendo una cosa per identificarvi i colori Ok Ok, quindi potrebbe essere, su questa modella, un colore che si può vedere abbastanza questo Come tonalità sulla lunghezza E la tonalità di base potrebbe essere tipo questa Abre, Abre, a Cori, per questo il 908 Però io posso, ovviamente, sempre Vediamo se riusciamo Ok, perfetto Per questo è un documento di poco caldo Ok E, chiaramente, sulle lunghezze potrei fare quel gioco che ho visto prima per andare a creare una situazione del genere. Questo solo per fare un esempio del concetto della tecnica. Se io ho fatto delle scheleture prima, poi vedremo delle tecniche apposta per questo. Io posso lavorare in questi termini. Allora, un'altra cosa ancora che vi faccio vedere dei pannelli, come sempre, è questa. I pannelli sono stati creati proprio per cercare sempre di far identificare. Se una cliente arriva al salone con la foto nel telefono e vuole quel colore... Se io vi faccio una domanda, lo sto mettendo qua, lo vedete questo colore qui? Lo state vedendo? Un attimo solo che rimetto la funzione, che se no magari non vi vedo. Ok, scusate. Ok, adesso vi vedo. Abbiamo messo quella del video. Ecco, se io... Allora, l'hanno visto questo colore? Lo vedono bene? Edito mi lo devono indicare, secondo loro, sulla cartella, qual è il colore più simile a questo? tra questi che vedono qua, quale è secondo loro? io preparo... loro mi dicono dove posizionarlo dai, chiudiamo la sessione e qua? dai, forza, dite mi qualcosa, ragazzi ora mi piangiamo dai dai mi raccogliamo, скажi qualcosa Margarita, dove le ragazze? ragazzi, ragazzi perché le ragazze? le ragazze, probabilmente ok sono timidi ok allora l'aiuto io, dai per esempio, posso valutare sì, va bene, va bene l'importante è che allora, come ho detto guardate questa prima lezione come ho detto è un pochino più teorica questa è la prima più teoretica quelle dopo andremo un po' più nelle cose diciamo dei lavori vedremo proprio dei lavori ok ok però è importante capire perché la Byfama costruisce certi mezzi visto che questo è il tipo di lezione che stiamo facendo per esempio questo colore qua che io vedo qua lo posso individuare in questo poi se io guardo questa testa che io ho preso è una foto che ho preso dal web non è che non è niente in piedi vado a vedere per esempio questo cambiamo un attimo tonalità che così almeno facciamo facciamola così facciamola bianca va bene? eccola qua questa tonalità devo andarla a cercare sempre nel mio questo vediamo questa tonalità questa tonalità la devo andare a cercare qua ecco questo questo esempio vi faccio capire a cosa vi ho utilizzato nella cartella adesso io vado a vedere questa tonalità qui probabilmente farbkarta служит для этого вот voi lo posso individuare in questa poi come in ogni testa come in ogni testa che la cliente ci porta con il telefono ci la fa vedere per stupire la cliente per stupirla e per fare un colore che sia veramente simile o comunque addirittura anche più che è più bello di quello della foto che lei ci porta per se come in ogni testa va inserita la terza tonalità quando voi fate un colore dove inserite una terza tonalità Quando su una testa i colori iniziano ad essere tre, si crea quell'effetto di, come posso dire, l'occhio, i colori li mischia lo stesso, anche se non fossero mischiati, li vede armonizzati, crea un armonizzato. Nessмотря на то, что оттенки между собой перемешаны, человеческий глаз воспринимает как единое целое. E come, ora faccio un esempio, non so se per tutti sarà chiaro, ma per capirsi con la musica, l'armonia della musica. Для того, чтобы понять, о чем идет речь, вот, знаете, часто говорят о гармоничной музыке. Se io premo una nota, una sola nota, è un solo suono, non è armonia, è un suono. Один звук, это не гармонia, это тупo звук, и все. Già se insieme a quella nota ne premo un'altra, ne premo dura al pianoforte, Вот, а когда вы нажимаете на вторую клавишу, на пианино, inizio, l'orecchio inizia già a confondersи. Ухо начинает уже теряться, искать что-то. Se premo tre note contemporaneamente nel pianoforte, И если одновременно вы нажимаете на три note, одновременно, l'orecchio a quel punto non percepisce più le tre note, ma percepisce un'armonia. Ухо больше не воспринимает notы, ухо воспринимает гармонию. Ora, la cosa importante è sapere quali sono le tre note giuste. Поэтому надо уметь знать, какие же эти три note правильные, чтобы на них... Для нас, coloristов, все равно. Если вы хотите создать гармонию, с трех цветами, и вы знаете, как использовать, которые вы знаете, как использовать, то глаза будут выполнять ту же работу, что и уши. Он не может больше perceпить три цвета, но perceпит армония. Глаза не смогут воспринимать три разных оттенка. Глаза будут воспринимать полную гармонию. Вот именно по этой причине ByFama создала вот такую таблицу. Экколо, может быть, вот такой, вот оттенок, ну плюс-минус, 7-8. Потому что вот эти вот вещи называются монохромные панели. Они очень удобные. Они очень удобные. Они очень удобные для того, чтобы считывать тот цвет оттенок, который клиентка приносит вам в экране телефона. Потому что понятно, что наша работа, это работа мастера художника, маэстро. То есть работа максимально индивидуальная, каждый интерпретирует все по-своему. И это очень круто, и нам надо продолжать работать в таком же ключе. Но вы должны помнить об одной вещи. Для того, чтобы получить гармонию цвета, следует соблюдать определенным правилом. То есть монохромные панели, вот, из нашей форм-карты необходимы именно для этого. Вы можете просто держать фотографию в телефоне. Вот, и поднести к желаемому цвету. Потому что мы, как парикмахеры, по сравнению с мастерами 25-летней давности... Ого, ого, какие продвинутые! Точно так же и клиентки продвинутые становятся. Вот, и клиентки продвинулись далеко вперед. Поэтому важно использовать нужные инструменты. И последнее, что я хочу вам сказать. Я думаю, что сегодня хватит. И скажу, наверное, что на сегодня хватит. Дитоми вы, но мы вовремя 2 часа. Я хочу показать последнее. Потому что мы договорились про 2 часа, а тут больше. Ладно, последнее, что я хочу вам сказать. Давайте посмотрим. Давиде, мы тебя можем слушать бесконечно. Давиде, ты можем слушать в режиме наступ. А, спасибо, что красиво, спасибо. Большое спасибо, так мило с твоей стороны. Grazie, molto gentile. Perché se vuole questo risultato è costretta a rivolgersi a un professionista, non c'è niente da fare. Perché se questa Valentina Nicolaevna vuole ottenere un certo risultato, non c'è вариантов, non c'è, deve andare a un mestolo parikmachero di alto livello. E tutto. Ed ecco che qua c'è l'esempio che ho fatto prima. E qui c'è l'esempio che ho fatto prima. E qui c'è l'esempio che ho показato ранее. Se voglio direttamente col telefono vado poi a vedere quali sono le sciocche che rappresentano... Ed ecco che da lì i pezzi si compongono, perché magari sulle lunghezze devo ripigmentare, sulla base devo schiarire, ma... Vedete che da prima a dopo posso usare il pannello anche per fare ovviamente una consulenza prima della situazione che c'è. Per usare il pannello che si avvicina a quello che io ho adesso. E per ottenere il pannello che si avvicina a quello che io ho adesso... E qui ci sono le regolato cartello, l'abbiamo visto. Questo è per darvi un'idea, insomma, che gli strumenti sono sempre creati in modo tale che possono esaltare la professionalità del parrucchiere. Cioè, questo è proprio il vostro aiuto, queste pannelle, questa farbkarta, per poter capire la qualità vostra professionale. Ok, bene. Io, se non ci sono domande, però se non ci siamo, abbiamo fatto due ore un quarto, erano due ore, perché non voglio... Ma c'è qualche domanda particolare, me la facciamo pure che la... Se c'è qualcosa di chiaro, il senso che volete ricevere, io conoscere te. Ok, parliamo un po' della prossima volta. Poi parleremo al prossimo razzo. La prossima volta affronteremo il tema della decolorazione, affronteremo in varie situazioni, ossia nelle classiche con la ricrescita come vediamo qua, sia nell'ottenimento di diverse tonalità a partire da una schiaritura dorata, sia, vorrei farvi vedere un altro esempio, ecco anche dal costruire tonalità specifiche attraverso le tonalità, e in modo da creare certamente attenzioni. Adesso vediamo la casistica e poi ovviamente le soluzioni, comunque vedremo alcune risposte. Il campo dei biondi è un campo molto ampio. L'intento di queste sessioni è darvi tutti i mezzi per farvi lavorare a voi bene, tranquillamente. Lo scopo non è insegnarvi a fare il vostro mestiere, non è questo il nostro scopo. Nel nostro scopo è essere il mezzo per farvi raggiungere meglio i vostri obiettivi. Nel nostro scopo è essere il mezzo per farvi raggiungere meglio i vostri obiettivi. e poi molto di più perché c'è ancora un sacco di roba ma insomma io direi che la prossima volta su queste situazioni qua concludo mi permetto solo un'ultima cosa e io завершio la lavoro abbiamo appena lanciato un nuovo progetto questo modello di seminario che si chiama Best Blonde Foundation e prevede un sistema di lavoro molto molto strutturato semplice dove abbiamo previsto come dei navigator per ogni situazione quindi qua si va dalla tecnica all'utilizzo specifico di tutto il sistema di decolorazione fino ad arrivare vado velocissimo per esempio ha delle schede che vi indicano a seconda della tecnica che voi fate se fate se fate se fate se fate se fate tecnica mano libera se fate tecnica se fate tecnica con i fogli quindi con i fogli d'alluminio a seconda del livello dove partite risultate sempre qual è il risultato qual è il prodotto migliore ma non finisce qui dopo di che si va alla tonalizzazione e si creano dei pannelli apposta per le varie aree di tonalizzazione in modo che voi avete sempre tutte le tonazioni разные attenки tonalizzazioni tutto questo è qui tutta una serie di informazioni che vi guidano a ottenere огромное количество massi informazioni che diano capire come funziona fino ad arrivare ai trattamenti che poi vedremo in maniera specifica per poi andare anche alle tecniche ovviamente noi abbiamo messo delle tecniche e queste tecniche sono tecniche da salone con le tecniche commerciali sono tecniche beauty salon non sono avant-garde tecniche che utilizzano in salone di красità questo è sempre per ottenere ovviamente il massimo risultato ci sono varie tecniche ok questo tipo di seminario lo vedremo in una sessione specifica la prossima volta ci dedicheremo invece a bionda e la decolorazione come abbiamo detto e vedremo in una sessione Ciao! Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ok. Allora, lei adesso stoppa la registrazione.